Siamo con Cesare Dell'Anna, però la Regione Puglia e il Comune di Caprarica questa sera hanno aperto un altro spazio creativo? Sì, c'è un altro spazio creativo interessantissimo, ma io sono qui perché voglio che ce ne siano molti spazi creativi a breve, questo è un comune che adoro da sempre, trovo che abbia un sindaco veramente speciale, una persona veramente aperta, moderna e con la quale si può ragionare su tutta una serie di cose, usciti fuori da questo comune, province, regioni e politici di grosso calibro, mi riesco a non parlare, non mi interessa perché personalmente con la burocrazia ho sempre solo avuto problemi, per cui mi affido all'amico Paolo per tutti i progetti che vogliamo fare in questa meravigliosa cittadina, perché questa città va ricaricata e quindi Caprarica ricarica tutta la vita e se le cose vanno così come pare che debbono andare, questo posto diventerà un centro veramente dove arriveranno tutti i miei amici da Los Angeles, della Romania, da New York, della Russia, faremo una scuola di altissimo livello di teatro, ci saranno dei musei permanenti e comunque c'è di fianco a me i miei amici di sempre, lo scultore, il professore Antonio De Luca e Giuseppe Semeraro, l'attore, scrittore che sono i miei compagni di viaggio era a Bagnotele da ormai, dagli anni 90, quindi il trio è collaudato, il livello artistico è sicuramente altissimo, se la burocrazia non ci mangia anche stavolta daremo molta soddisfazione, insegneremo tante cose anche gratuitamente a tutti i ragazzi perché dopo la messa della domenica, che sarà in mezzo dell'anno che faccio la lezione del rombro e di musica a tutto il paese gratuitamente e faremo suonare ogni giardino, ogni albero, ogni singola strada di questa piazza, purché ci sia la disponibilità vera, di fare cose vere, potenti e senza perdersi nei soliti meccanismi della politica e degli amici degli amici della politica e degli amici della bandiera e degli amici dell'oculore scritto della bandiera, non calzellarlo tutto a questo. Naturalmente ci porta oggi a poter guardare in faccia con occhi nuovi la nostra comunità, poter dare un passaggio ulteriore verso quell'idea di Capraica del poeta e questo è il frutto di un gioco di squadra, il frutto di un gioco di tutti quanti, anche un frutto, un merito che va riconosciuto a chi è accaduto in noi, nella regione, a chi ci ha dato una mano tecnica e culturale importante, tutti i partner, la biblioteca e il nostro progettista e da ultimo e non per ultimo anche il nostro ufficio tecnico. Tutte queste cose siamo riusciti a farle perché siamo riusciti a creare un spirito di collaborazione con l'ufficio tecnico che ho visto qui in Renato, non vedo più, e che ringrazio sinceramente e a cui credo che vada la strada di tutta la comunità e ringrazio anche a tutta quanta la comunità, non cerchi di realizzare tutta quanta queste cose, è perché qualcuno le carte ha preparato, quel qualcuno è lui insieme con i suoi collaboratori. Evidentemente l'abbraccio a tutta quanta questa pratica, tutta quanta la comunità di amici che è qui, un abbraccio forte evidentemente lo faccio a chi con me tutti i giorni combatte e finché abbiamo la forza di combattere abbiamo la forza di guardare a un domani. Io sono un po' bibliomane, una di quelle che legge, se trovo una carta a terra mi fermo a leggerla, non so se a voi capita, ma perché è proprio brutto che si esca così? Allora dicevo, ma dov'è l'origine di questo problema? I ragazzi ce l'hanno un luogo dove andare a leggere, dove educarsi a leggere, ce l'hanno? Abbiamo noi delle biblioteche come quelle che vediamo a Bologna, come quelle che vediamo nel nord Europa, aperte, aperte 24 ore al giorno addirittura dove di sera si può andare dove i ragazzi possono andare con i loro nonni, che gli raccontano le storie, ce l'abbiamo noi e allora ho fatto un'indagine, ho commissionato un'indagine sulle nostre biblioteche e sui nostri luoghi di aggregazione, sui nostri luoghi della cultura. Qual è stato l'esito? Che la maggior parte delle biblioteche, tranne rarissime eccezioni, aprivano alle sette e mezzo quando uno share andava ad aprirle. Attenzione, raramente un bibliotecario, quasi sempre un ottimo share dei comuni e chiudevano all'una e mezzo quando lo share finiva di lavorare. In mezzo sostanzialmente nulla per i ragazzi. Poche biblioteche veramente aperte con la disponibilità di prendere i libri di prestito e sostanzialmente tanti immobili invece vuoti. Libri non intriganti per i ragazzi ma neanche per gli adulti. Quasi mai archivi che potessero rappresentare davvero una capacità di attraverla. persino le biblioteche scolastiche, polverose, spesso chiuse e senza persone che avessero il tempo di invitare i ragazzi a prendere i libri. E allora come pensiamo noi che possa crescere la lettura? Mi sono letta. Come pensiamo noi di far crescere la lettura? Di diventare anche noi europei e contemporanei? E poi ti guardi intorno e trovi che anche i teatri spesso sono nelle stesse condizioni e anche i luoghi che potrebbero essere aperti poi si sono rivelati chiusi. Anche i teatri chiusi non utilizzati magari al centro delle città. E il cinema? Quasi sempre le multisala circondate da luoghi sicuramente dove si mangia un buon hamburger ma senza i prodotti locali, senza quella visione di comunità e di borgo che invece davano i nostri vecchi cinema. E palazzi, castelli, palazzi storici chiusi, restaurati, nella maggior parte dei casi restaurati, ma chiusi. Quindi come pensiamo che il laureato in beni culturali, mi sono detta, trova lavoro in Puglia? Come possiamo pensare che lo storico dell'arte o l'archeologo trovi lavoro? Se questi luoghi sono chiusi e come pensiamo che i ragazzi leggano e che anche gli adulti, gli studenti, siano invitati per esempio ad andare in biblioteca come fanno le mie figlie a Ferrara o a Milano, studiano in biblioteca per quanto vivano in appartamento. Come pensiamo noi che vadano in biblioteca se le biblioteche non sono aperte? E allora è partita da lì la strategia. Che temiamo? Come fate voi a casa vostra? Quanto c'ho? Per cosa lo devo utilizzare? Cosa devo fare prima? Quali sono le priorità? Allora avevamo il programma europeo per i beni culturali e quindi viste le risorse, viste le risorse, 150 milioni di euro abbiamo detto qual è la priorità assoluta? Fare aprire i beni culturali, non tenereli chiusi. E cosa possiamo fare? Cerchiamo di invertire la tendenza e abbiamo lanciato uno slogan che voglio condividere con voi non più un euro per il restauro se non c'è un progetto di frizione cioè se il sindaco Paolo Greco mi avesse proposto un progetto o il sindaco Alessandro IV che vedo qui davanti a me anche lui è stato contento qualche sera fa abbiamo inaugurato la Saldonato Città d'Arte non so se mi spiego se il sindaco Paolo Greco presenta un progetto dove restaura muri e mi chiede i soldi per il restauro dei muri e non si capisce che cosa si deve fare all'interno Z Progetto Boccia E allora è partita la fase Construence ma allora partiamo da quello che serve davvero per animare i ragazzi da quello che serve per far crescere le comunità per dare uno spazio di lettura che se non si educano, questo ce lo dicono psicologi tutti gli esperti diciamo se non si educano quando sono piccolini non leggeranno più è difficile che si educhino alla lettura e allora dobbiamo pensare a loro quindi preferibilmente biblioteche Sardegna Comunale ringrazio l'assessore il direttore del Polo Bibliomuseale l'architetto perché veramente è stata pensata la biblioteca della scuola a misura di bambino a misura di attività in quella biblioteca si possono fare e allora come istituto complessivo noi lavoriamo molto sulla lettura e abbiamo in particolare proprio a Caprani che ha già dell'anno scorso realizzato un'iniziativa particolare per cui io chiamo il sindaco dei ragazzi Aurora qui con me perché noi abbiamo realizzato l'assessore il direttore dell'architetto lo conosceranno sicuramente fatto l'anno scorso conoscete la commissione per un pugno di libri e noi l'abbiamo realizzata qui a Capradica con una squadra di ragazzi e ragazze di Capradica e Martignano che però hanno giocato nella sala consigliare un luogo sicuramente prestigioso, interessante, bello ma insomma non profondato e poi con tutti questi giovanotti e signorine che vedete qui ma anche con una classe della scuola secondaria venite a patricino a me partecipiamo ad un percorso sperimentale di lettura d'alta voce che si chiama Leggi Ancora La performance che è prevista per questo evento? Stasera niente, ci sono solo donne belle di una certa età per cui faremo un po' di Puccini faremo un po' di Tchaikovsky faremo un po' di Aratunian faremo un po' di Dell'Anna faremo un po' di Balkan mischiato alle cose classiche della scuola russa che a me piacciono tanto e sto con il mio amico Eklandassa che è uno dei più grandi pianisti che io abbia mai conosciuto su questa cosa tonda sulla quale si viene